buongiorno a tutti ragazzi. io sono Riccardo. bentornati nel mio laboratorio. oggi sono molto contento, perché Arbotec Italia mi ha mandato questo gioiello. è un disco speciale. il modello è Turbo Plane, che ci permette di modellare il legno in una marea di modi. è un prodotto professionale. questo disco costa 320 e 130 euro. vi lascerò però il link dove poterlo acquistare ad un prezzo più conveniente sul web. il prezzo più basso che potete trovare. è il link ovviamente anche di arbotectools.com dove vedere le specifiche del prodotto. questo disco montato sulla smerigliatrice angolare ci permette di fare cose assurde. io ho visto altri video e sono rimasto sbalordito dalle potenzialità davvero incredibili. ci permette di modellare il legno, dare forme come vogliamo noi, su legni anche durissimi. ovviamente nel nostro laboratorio ci può tornare utile anche per modellare il legno, dove noi abbiamo necessità di dare forme che altrimenti non riusciremmo a fare. e con questo riusciamo invece a farle. vi faccio vedere come un oggetto del genere ci può facilitare la vita nel nostro laboratorio. apriamo la confezione, montiamolo sulla smerigliatrice e testiamolo subito. come sempre però, prima leggiamo quello che è riportato sulla confezione. allora, è un utensile che ci permette di lavorare a mano libera, quindi modellare a nostro piacimento qualunque tipo di legno. può essere utilizzato su smerigliatrici angolari da 100 mm e da 115 mm, che siano adere compressa, corrente o batteria. il numero di giri minimo, a cui può lavorare è 9.000 e il massimo, invece, è 12.000. ovviamente, durante l'utilizzo, dobbiamo indossare le protezioni personali, quindi le protezioni per lo dito, per la vista e la mascherina, per evitare di inalare polveri e segatura che si va formando. per montare questo disco sulla smerigliatrice angolare, dobbiamo rispettare però quello che prevede la casa. quindi dobbiamo impugnare la smerigliatrice con il manico avvitato sul lato sinistro e tenere la smerigliatrice col destro. lavorare quindi verso il basso. ha degli spessori che ci permettono di allontanarla dal corpo della smerigliatrice e giungere più facilmente sulla superficie. e la protezione della lama deve essere posizionata a 45 gradi, in modo da facilitare sia l'utilizzo che la fuoriuscita dei grugioli. vediamo però direttamente a come si comporta. apro quindi questo disco Arbotec turboplane. questi sono gli spessori in dotazione. all'interno troviamo altre informazioni. tra le informazioni riportate c'è anche la spiegazione in lingua italiana. ok quindi la monto sulla smerigliatrice. vi ricordo che queste operazioni vanno fatte sempre con la corrente staccata, il tubo del compressore o l'alimentazione a batteria. in questo caso quindi ho rimosso la batteria per poter toccare la lama. accendiamo la smerigliatrice angolare. ovviamente ho inserito già la batteria. vediamo come si comporta, che effetto fa una volta montato. ok. una volta montato, dà alla smerigliatrice un effetto stabilizzatore. rende più stabile il tutto e questo ci aiuta anche nel lavoro. perché comunque il peso è superiore rispetto al peso a cui siamo abituati dei normali dischi, soprattutto del suono per ferro e sono sottili. iniziamo con un lavoro semplicissimo. proviamo ad arrotondare questa parte di questo listello. vediamo come si comporta. allora, bugniamola come previsto. come vedete, ha smussato perfettamente questa parte di legno in pochi secondi. ma questo era un lavoro facilissimo che ho voluto fare per vedere inizialmente come si comporta. prendere un pochettino di confidenza con l'utensile. adesso vi faccio vedere qualche lavoro leggermente più importante. proviamo adesso, con questo listello di abete, a smussare questi angoli. magari proviamo a renderlo un pochettino più arrotondato. grazie. 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 è pauroso. in pochissimo tempo, con poche passate, ha rimosso un sacco di materiale. proviamo allora, con un bel tronco di albero di eucalipto. vediamo come si comporta. proviamo letteralmente a rimuovere una parte di questo tronco. prendiamo liscia questa parte, che mi sembra abbastanza irregolare. in un'altra parte, che mi sembra abbastanza irregolare. pauroso ragazzi riesce a fare un lavoro che nessuno altro utensile riesce a fare ha scavato letteralmente un tronco rimuovendo tutte le parti sporgenti quindi se abbiamo necessità di lavorare su qualcosa qualche superficie che bisogna essere lisciato modellata con questo facciamo in pochissimo tempo considerate che sto utilizzando una smerigliatrice angolare a batteria quindi di fascia hobbistica sicuramente utilizzata con una smerigliatrice angolare di livello superiore riesce a dare molto ma molto di più bene come si dice quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare quindi proviamo a smussare quest'angolo di questo tronco vediamo se riusciamo pure con questo ad ottenere una bella smussatura nonostante il legno abbastanza duro qui si fai un pochissimo Grazie. Che dire. Non ci resta che provare la parte opposta. Questa parte è davvero molto irregolare. Se volessimo spianarla, piallarla per capirci, basterebbe fare questo lavoro. Ditemi se avete mai visto un utensile del genere. Sono felicissimo. Guardate come ha reso liscia questa parte. Nonché, ovviamente, questa arrotondata, in pochissimo tempo. Un lavoro del genere, con altri utenti, avrebbe richiesto davvero un'enormità di tempo. Questo è quello di poco fa, da cui sporgevano i due rami. Quindi, praticamente, il primo pezzetto, con cui abbiamo giocato semplicemente. Questo è il primo. Bene ragazzi, che dire. Ho finito di fare questa rendizione di questo fantastico disco magico, che ci permette di modellare legno, come se fosse burro. Che dire. Ringrazio Arbotech, che me l'ha mandato. Vi invito ad acquistarlo, se cercavate un prodotto del genere, ma se non lo cercavate, viste le potenzialità. Secondo me, lo comprerete. perché è meraviglioso, e riusciamo con questo a fare, praticamente, tutto quello che riuscivamo a fare, solamente con altri utensili, più grossi, più pesanti. Questa è una smirigliatrice da ho vista, a batteria. Questa lavora con la batteria da 4 ampere. Io ho utilizzato la batteria da 2 ampere, e sono riuscito lo stesso, a fare tutti i lavori che avete visto. Vi lascerò, come ho detto all'inizio, il link, per acquistarla, ad un prezzo inferiore rispetto agli altri. Che cosa vi devo dire? Ringrazio Arbotech, grazie di questo oggetto. Mi divertirò sicuramente a lavorarci nel mio laboratorio, ma anche in esterno. Dobbiamo fare con un tronco al poligono, dobbiamo fare una sorta di sedile. Con questo, in poco tempo, riuscirò sicuramente a modellarlo a mio piacimento. Si possono fare quasi delle sculture. Ok. Detto questo, quindi io vi ringrazio. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace a questo video, se vi è piaciuto. Ci vediamo per le prossime recensioni, i prossimi video, comunque i prossimi tutorial, eccetera. Ciao a tutti da Riccardo. Alla prossima. Ciao. Ciao da Arbotech. Ciao.